No, non è stato l'asteroide che ha decretato la fine dei dinosauri, non è stato l'impatto di quel masso di 10-14 km che si è schiantato nel Golfo del Messico, è stato ciò che è arrivato dopo, l'incapacità dei dinosauri e probabilmente del 99% delle specie che vivevano sul pianeta Terra di adattarsi alle mutate condizioni ambientali. Che diavolo c'entrano i dinosauri con la pedagogia? Ecco, io ho la netta sensazione, non da adesso, già da alcuni anni, forse da alcuni decenni, che la pedagogia in generale e i pedagogisti e gli educatori professionali sociopedagogici stiano un po' facendo la fine dei dinosauri. Io sono Pierpaolo Cavagna e questa è una nuova puntata di Storie di ordinaria pedagogia, dedicata a una tematica che secondo me è molto interessante e assolutamente molto attuale e pare che praticamente non interessi nessuno. La mia domanda fondamentalmente è, ma la pedagogia può ancora dire qualcosa in questa società? Ci stiamo adattando all'ambiente o stiamo facendo la fine dei dinosauri. Inizio la disanima con punti che mi vengono in mente, assolutamente non organizzati a livello di importanza, ma proprio perché mi riaffiorano la memoria. Qualche settimana fa l'albo TSRM, che è il mega-albo che racchiude al proprio interno anche gli educatori di area sanitaria, gli SNT2, ha pubblicato un documento. Un documento che chiarisce dal loro punto di vista il rapporto tra gli educatori professionali per l'appunto sanitario e gli educatori professionali sociopedagogici. Il sunto di questo documento, che è molto ben organizzato, molto lineare, tipicamente sanitario, perché arriva dritto al punto senza girarci intorno, è o sarebbe che gli educatori di area sociopedagogica fondamentalmente siano una professione legalmente, tecnicamente, metodologicamente inutile. Il documento non ci gira tanto intorno, dice fondamentalmente che gli educatori sanitari hanno queste leggi, questo core competence, queste metodiche, queste finalità decretate da tutto l'elenco delle leggi, gli educatori sociopedagogici non hanno niente di tutto questo, hanno un brandello di una legge di bilancio, non hanno un core competence, non hanno un albo, non so nulla sostanzialmente. Quindi dove va a puntare questo documento? In una direzione che mi ha colpito tantissimo, non tanto per la diatriba che oramai conosciamo da diversi anni e che sta deflagrando la categoria in due branche pare contrapposte, ma mi ha colpito perché dice per la prima volta sinteticamente in maniera molto diretta che gli educatori professionali sociopedagogici e per estensione superiore quindi anche i pedagogisti hanno un unico ambito professionale legale di intervento, la formazione, la formazione in ambienti istituzionalizzati, quindi scolastici, uscendo fuori dal gergo tecnico. Gli educatori di area sociosanitaria del TSRM dice gli educatori professionali sociopedagogici hanno un unico ambito di intervento, possono occuparsi di apprendimento in un ambiente formale. Tutto il resto rientra nell'alveo della riabilitazione o dell'educazione sanitaria. Quindi primo punto. Su questa onda, l'anno scorso, due anni fa, mi ricordo, ne ho parlato anche in un video, magari ve lo puoi recuperare in playlist, due grandi case editrici che si occupano di testing, la più grande in Italia, la Giunti OS, organizzazioni speciali, e la Ogrefe, che è un editore tedesco molto molto importante e sicuramente di grande peso come la Giunti in Italia, hanno operato un downgrade per i livelli di accesso degli educatori professionali sociopedagogici riguardo ai testing. Cosa vuol dire questo downgrade? in breve. Siccome anche loro si sono trovati all'interno di questa diatriba tra sociale e sanitario e dovevano dare delle linee guida per gli acquirenti, cioè quando io vado a comprare un test questi due editori mi dicono che tu che laurea hai? Io sono un L19, ok, puoi utilizzare questi test, io invece sono un educatore professionale sociosanitario SNT2, puoi utilizzare questi altri. Allora, quali sono queste due grandi branche? Mentre i sanitari sono stati confermati a un livello B, quindi un livello abbastanza elevato, intermedio tra un A e un C, il C è il livello massimo, l'A è il livello minimo, gli educatori di area sociopedagogica, quindi umanistica, e anche i pedagogisti, che sono stati quindi equiparati, abbiamo equiparato una triennale a una magistrale, sono stati riportati in basso di diversi livelli, un macro livello, quindi dal B all'A, ma anche dei livelli intermedi, quindi dei sub livelli. E dove sono stati portati? Sono stati portati al livello dei docenti, degli insegnanti in ruolo. Quindi questo è il secondo elemento che mi ha colpito. Tutto converge verso il portare pedagogisti, educatori professionali, sociopedagogici, verso il versante della formazione, della docenza. Quindi pedagogia diventa didattica. La terza cosa ancora che mi ha colpito, e forse il motivo per cui poi sto registrando questo video, è il fiorire di richieste nei forum dei colleghi riguardo a domande come la messa a disposizione, il possesso dei 24 CFU per poter concorrere poi alle classi di concorso per le docenze, il TFA, è una ondata generale di rabbia che più o meno si può riassumere come sono un pedagogista, quindi nativamente io sono in grado di occuparmi di didattica, io sono un docente di base. Ecco, questa cosa secondo me è molto interessante e dal mio punto di vista anche molto preoccupante. Il problema qual è? Il problema è che il mondo sanitario, una parte del mondo sanitario, nel tentare di dividere il sanitario per l'appunto dal sociale, utilizza come metro di divisione la formazione. Quindi, educatori, professioni, sociopedagogici e pedagogisti sono dei docenti, quindi afferenti ad esempio al MUR, MIUR, come diavolo si chiama, nuovo ministero, mentre tutti i colleghi di area sanitaria sono afferenti al ministero della salute. Ecco, tranciando così nettamente questi due ambiti, questi due rami, ponendoli in contrapposizione, si ottiene un effetto legale molto netto, molto rapido e molto economico e gestibile. Cioè, espelliamo totalmente la componente sociopedagogica da tutti gli ambiti di interventi, fondamentalmente. Quali sono questi ambiti di intervento? Tutte quelle strutture, tutti quegli ambienti, tutte quelle situazioni nelle quali attualmente troviamo colleghi di ambito sociopedagogico impegnati nella pratica professionale quotidiana. Quindi, sostanzialmente, riportiamo tutto sotto un ambito di patologizzazione, cosa che poi effettivamente anche i colleghi di area sanitaria non fanno, però ci dà modo legalmente di tranciare i due ambiti. Questo da un punto di vista legale. Quello che mi preoccupa maggiormente, oltre questa componente, è il riflesso da un punto di vista deontologico. La mia domanda fondamentalmente a questo punto è, Ok, ma la pedagogia a questo punto a cosa serve? Serve realmente a qualcosa? Se noi iniziamo già a tranciare questi due ambiti, se i pedagogisti si ripiegano sul ruolo di docenza, a questo punto la pedagogia perde senso. Non è più pedagogia, diventa una branca della didattica. Potrebbe diventare una metodologia didattica. Già a partire dall'idea che un pedagogista, in quanto pedagogista o un educatore professionale sociopedagogico, abbia delle competenze per fare il docente, secondo me è delirio. Totalmente delirio. Se noi prendiamo il curriculum di Milano Bicocca, ad esempio, che ne ha due, chiaramente ha la L19 per l'asilo, fondamentalmente, e l'L19 per tutto il comparto sociale generale, vedremo che non ci sono esami specifici che formano un docente. Perdendo di vista questo, perdiamo di vista, secondo me, anche una delle caratteristiche che contraddistinguono gli educatori di area sociopedagogica e i pedagogisti. Il rischio qual è sostanzialmente? Che ci sono professioni che fanno i docenti nativamente, da sempre, e lo fanno molto meglio. Il rischio qual è? Che ci sono professioni come gli educatori professionali di area sanitaria, neuropsichiatri, psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, terapisti della reabilitazione, i terp, e una molteplicità di altre figure professionali di area sociopedagogica, a cavallo tra l'area sociale e quella sanitaria, che possono svolgere esattamente gli stessi ruoli di un pedagogista e probabilmente anche di un educatore professionale sociopedagogico e forse anche meglio. Ho la sensazione che siamo un po' come i dinosauri i mesi prima all'impatto del meteorite quando probabilmente lo vedevano in alto nell'atmosfera, lo guardavano, ma non è che fosse granché interessante. C'è anche da dire che un povero dinosauro non è che avrebbe potuto fare granché, ma noi siamo un pelo più avanti. Mi domando se questa necessità di tutta la categoria, perché è una necessità molto sentita e pressante, non solo dall'esterno, quindi dalle altre categorie professionali che ci vorrebbero spalmare sul comparto delle docenze, quindi piegare la pedagogia alla sola docenza, ma anche interna, tantissimi colleghi che aspirano al posto fisso, aspirano all'entrare nel mondo della scuola. Tra l'altro non rendendosi conto che i numeri non ci sono, è impossibile che il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca assorba questa mole di docenti in ingresso, per un motivo molto semplice, perché le docenze sono aperte a chiunque abbia una laurea per quell'area specifica di insegnamento. Il mio discorso però è ancora più a monte. Ha senso la pedagogia arrivati a questo punto? Cosa stiamo facendo? Io ho la sensazione che stiamo un po' rincorrendo al sanitario, che ci stiamo un po' arrabbattando per fare degli interventi che siano abilitativi, ma che poi in fondo sono riabilitativi, perché non si può dividere l'abilitazione dalla riabilitazione, è follia. Questo lo sanno benissimo anche i colleghi sanitari, c'è scritto benissimo nel loro core competence. Dall'altra parte mi sembra che manchiamo completamente di un paradigma di intervento, di visione della realtà. La pedagogia cosa puoi dire di nuovo attualmente? Io tutti i corsi di formazione che vedo, che vengono erogati, sono tutti corsi di giuridica, di clinica, di mediazione, di counseling, ma io veramente non vedo niente di nuovo, sotto il sole. Sono tutte scopiazzature di cose già fatte, dove altri fanno meglio, tra l'altro. Non vedo nel panorama attuale una visione che vada al di là del microintervento con l'utenza. Ma io non credo che la pedagogia si possa appiattire solo a questo, cioè a farti la tua ora di intervento in comunità con servizio educativo territoriale, educativa di strada, e che finisca tutto lì. Sarebbe veramente una riduzione in termini pazzesca, sarebbe un impoverimento enorme. Mi chiedo, è scoppiata una guerra? La Russia ha attaccato l'Ucraina, adesso è più di un mese, forse siamo due mesi in pieno conflitto. Non ho letto di un pedagogista che abbia espresso un parere al riguardo. Non ho letto di una categoria professionale che si sia unita per dire, guardate che l'unico modo per combattere una guerra non è con le armi, è con la pedagogia. Realmente con la pedagogia. Se noi non abbiamo in mente un'altra visione di mondo, se noi non abbiamo in mente un modello evolutivo con il quale andare a fare il lavoro che facciamo, faremo la fine dei dinosauri. Chiaramente ci sono professioni che sono molto più tecniche del pedagogista e dell'educatore professionale sociopedagogico, perché sono formate per esserlo. I colleghi sanitari viaggiano per protocolli, l'approccio è cognitivo-comportamentale. È molto efficace ed efficiente, ma non solo loro. Ci sono una moltitudine di professionalità che possono fare quello che stanno facendo attualmente gli educatori di area sociopedagogica e i pedagogisti, possono farlo meglio, possono farlo in maniera molto più affina a quanto il sistema richieda. E quindi la mia domanda a questo punto è ma noi abbiamo in mente un'altra modalità di sistema? C'è un'altra possibilità in realtà? Il senso ultimo di quello che stiamo facendo ce l'abbiamo chiaro in testa o stiamo solo rincorrendo altro? Ho la paura, la sensazione netta che su questo noi stiamo veramente perdendo terreno e non da poco, forse da almeno una trentina di anni. Sarebbe importante, secondo me, ripartire da qua, fermarsi un attimo e chiedersi che paradigma di visione del mondo e della professione ho in testa. Ovviamente il tempo per fare questo sta finendo. Il meteorite sta arrivando, probabilmente è già arrivato da un po'. La famosa legge di bilancio, la 205 del 17, che è stato, come dire, un atto dovuto dopo tutta la guerra intestina che ha portato all'emanazione di quei commi dell'articolo 1, ha creato un gran scombussolamento, mettiamola così. forse più che far del bene alla categoria ha spinto ancora di più perché si arrivasse a questa spaccatura, a questa separazione. Mi è chiaro che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il fatto che ci sia questa anomalia, questa doppia formazione in Italia della stessa professione formata in due ambiti, con due pertinenze legali diverse, va gestita. ma va gestita in una maniera molto diversa. Qui bisogna realmente iniziare a ripensare il paradigma di fondo. E il tempo sta finendo per farlo. Ogni qualvolta io leggo di un collega che chiede ma io posso presentare la messa a disposizione, vedo il meteorite che si avvicina di un metro. Ogni qualvolta leggo di un documento come quello del TSRM, vedo il meteorite che si è avvicinato di 150 metri. Ogni qualvolta vedo l'aggiunti OS o l'ografe che effettua un downgrade nei livelli di accesso, mi rendo conto che forse il meteorite ce l'ho proprio sopra il tetto di casa. Questo chiaramente è il mio punto di vista e la mia visione della pedagogia. Sarei molto incuriosito di sapere cosa ne pensi tu che stai vedendo questo video. Quindi se hai piacere lasciami un commento sotto. Credo che la prima cosa che dovremmo fare è parlarci, parlarne. Trovare un punto di vista magari anche discorde dal mio ma comunque relazionarci quindi comunicare su questa condizione perché almeno sul dato oggettivo penso che quello siamo concordi tutti. Non stiamo vivendo un gran bel periodo. Se il video ti è piaciuto come al solito fai quelle due tre cosettine e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Grazie mille.